se la vita è la vita se tamponi l'assicurazione obbligatoria paga solo i danni altrui assicurati il pagamento anche dei danni tuoi anche per questo ce la sai c'è prima l'assicurazione globale sai che paga oltre i danni che la tua auto causa gli altri anche molti danni che subisce e costa meno di quanto pensi parlane con il consulente sai